C'è più sicurezza insieme, questo lo slogan dettato dal capo della polizia Antonio Manganielli per il nuovo calendario realizzato in collaborazione con gli allievi del centro sperimentale di cinematografia. Testimonio al capo della polizia, ministro tecnico Anna Maria Cancellieri ed ex ministro leghista Bobo Maroni si ritrovano nell'ex autoparco della pubblica sicurezza nella capitale. Il ministro Cancellieri, reduce dall'audizione alla commissione affari costituzionali, conferma la crisi se malgestita può rinfocolare fenomeni eversivi. Il contrasto alle mafie resta una grande questione nazionale, conferma il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri in audizione, sottolinea. In questi anni è aumentata la consapevolezza che le organizzazioni mafiose vadano colpite non solo sul piano militare, disarticolando nella struttura, ma anche e soprattutto nell'accumulazione dei profitti illeciti e nella costituzione di provviste finanziari illegali che alimentano fenomeni corruttivi, sottraggono ingentissime risorse all'erario e avvelenano l'economia. Non basta colpire l'ala militare della mafia? Beh, certo, ma questa non è da oggi, si è fatta anche abbondantemente e anche molto bene in passato, credo che dobbiamo continuare su questa strada. Quindi ci saranno dei cambiamenti? No, non ci saranno dei cambiamenti, è una strada già intrapresa in senso molto serio, continueremo sulla serietà e con rigore. Grazie. 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 Grazie.